lettura della bibbia ciclo di conferenze su il vangelo di marco tenuti al centro culturale san fedele di milano nel mese di novembre dicembre 1989 da don gianfranco ravasi docente di sacra scrittura alla facoltà teologica dell'italia settentrionale quarta conversazione sabato 2 dicembre i miracoli di gesù nel vangelo di marco gli portavano tutti i malati e gli indemoniati questa sera abbiamo davanti a noi un dato che è caratteristico di tutti gli evangeli e che ha posto da sempre interrogativi interrogativi alla scienza interrogativi alla teologia interrogativi alla psicologia il problema dei miracoli è stato detto da uno studioso che i vangeli senza i miracoli sono come l'amleto di shakespeare senza il principe naturalmente questi miracoli nei vangeli sono da leggere non come atti taumaturgici semplicemente come atti da da spettacolo l'abbiamo ripetuto tutte le volte che li abbiamo incontrati già nell'interno dei tre altri evangeli soprattutto l'abbiamo ripetuto per ma per giovanni perché in giovanni i miracoli sono per eccellenza segni la realtà si c'è una realtà sempre difficilmente isolabile circoscrivibile il miracolo di sua natura non può essere diremmo dimostrato perché trascende la linea normale del flusso della natura la linea normale del flusso della ragione la realtà è sempre un segno nel miracolo sono soprattutto poi nell'interno dei vangeli sono atti d'amore presentati come atti d'amore e l'amore fa i miracoli ora marco dobbiamo dire che tra tutti gli evangelisti è quello senz'altro che ha dato maggiore insistenza alle mani di gesù che agiscono ha dato maggiore insistenza ai miracoli molto di più che non alle parole noi sappiamo matteo privilegia il dire di gesù le sue labbra il suo parlato invece in marco abbiamo per esempio dal punto di vista statistico questo particolare il 31 per cento del testo di marco vale a dire 209 sui 666 versetti che compongono il vangelo sono dedicati a narrazioni di miracoli siamo quindi in presenza di un terzo netto del vangelo e il segno che il cristo inaugura il regno è proprio nell'interno del miracolo ed è per questa ragione che dobbiamo dire che il miracolo non è mai anche per marco che pure il narratore meno teologico apparentemente in realtà lo è e attentamente il miracolo è proprio l'elemento meno miracoloso che noi dobbiamo avere nell'evangelo in un certo senso è più miracolosa la parola del cristo il miracolo infatti è orientato quasi ad essere il complemento della parola di gesù è orientato ad essere la dimostrazione che il regno di dio è venuto che si apre una nuova aurora un nuovo orizzonte se io scaccio i demoni con il dito di dio è dunque giunto a voi il regno di dio questa dichiarazione di luca in realtà capitolo undicesimo versetto 20 però è veramente una sintesi ideale soprattutto per quel tipo particolare di miracolo che è l'allontanamento la vittoria sul demonio ecco facciamo innanzitutto una piccola osservazione introduttoria questa osservazione introduttoria la prendiamo da marco stesso il quale ci offre veramente come una piccola nota nel capitolo primo nei versetti 32 34 venuta la sera dopo il tramonto del sole gli portavano tutti i malati e gli indemoniati e tutta la città era riunita davanti alla porta guarì molti che erano afflitti da varie malattie e scacciò molti demoni ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano è un riassunto un riassunto dell'agire di gesù vedete l'accento sui miracoli e in particolare l'accento sullo scacciò molti demoni e naturalmente c'è sempre quel famoso segreto messianico che vedremo impediva a loro di parlare ecco dobbiamo dire che l'attività miracolosa di gesù intesa però non nel senso dicevo spettacolare da star quasi taumaturgica non in quel senso superficiale l'attività miracolosa di gesù è certamente strutturale insita all'evangelo stesso e anche alla figura storica di gesù perché se noi andiamo a vedere anche attorno al gesù storico attorno anche al gesù dei vangeli fiorisce una tradizione che nella sua forma un po' oscura ci presenta gesù come uno che ha fatto dei segni strani guardate bene da gente che non avrebbe nessun interesse a sottolineare questa dimensione perché in polemica con la figura di gesù col gesù storico e col gesù dei vangeli perché in polemica con il cristo e con la chiesa sono due testi che vi voglio ricordare primo è un testo giudaico è un testo del trattato del talmud del trattato sul sinedrio il numero 43 a vi leggo il testo la vigilia della festa di pasqua appesero gesù il posteriore questo alle vicende cristiane posteriore dei vangeli certamente però raccoglie i dati con una certa lettura con una certa angolatura un banditore per 40 giorni andò gridando nei suoi confronti per la città gesù esce per essere lapidato perché ha praticato la magia e ha sobillato e deviato israele chiunque conosca qualcosa la sua discolpa venga e la duca non avendo trovato nessuna discolpa lo appesero la vigilia di pasqua vedete uno dei capi d'accusa due sono i capi d'accusa ha sobillato il popolo e questo lo capiamo bene le parole di gesù ma dall'altra parte ha fatto atti di magia è un modo polemico critico per descrivere i miracoli prendiamo un altro testo da un altro orizzonte sempre ostile a gesù l'orizzonte pagano noi abbiamo la fortuna di possedere nell'interno di uno scrittore cristiano dei primi secoli molto famoso celebre origine di alessandro il grande maestro alessandro d'egitto abbiamo la possibilità di conoscere indirettamente attraverso le citazioni che ci sono nella sua opera l'opera di un filosofo pagano di nome celso filosofo platonico il quale era ferocemente avversario dei cristiani e naturalmente l'opera di origine è un controcesso è un testo di apologetica di polemica nei confronti di questo pagano l'opera di questo pagano era intitolata in greco alethes logos la dottrina vera la dottrina verace ecco nell'interno di quest'opera secondo la citazione di origine si dice che la tradizione popolare tra i pagani e forse anche tra alcuni settori degli dei giudei era che gesù avesse avuto effettivamente un padre artigiano e avesse avuto una madre restata incinta di lui prima del matrimonio ma incinta per colpa di un soldato di nome pantera tra l'altro scacciata questa donna scacciata da giuseppe aveva partorito di nascosto e questo figlio figlio del deserto gesù era cresciuto pieno di forze pieno di energia ed era migrato in egitto per sopravvivere e a questo punto vi cito letteralmente il testo citato di celso citato da origine in egitto gesù apprese alcune di quelle arti segrete di cui gli egizi sono celebri ritornò successivamente tutto fiero in palestina e grazie ad esse a quelle arti segrete si autoproclamò figlio di dio vedete che c'è il ricordo della magia di questi atti prodigiosi compiuti da gesù che vuol dire che attorno alla figura di gesù prescindendo dai vangeli stessi c'era questo riconoscimento che egli aveva compiuto segni straordinari naturalmente cristo non li aveva fatti né per magia né per essere ricordato per questo li aveva compiuti perché si credesse e si credesse nel regno che viene ora noi non possiamo affrontare tutti i problemi che sono connessi alla a certi interrogativi che vengono lanciati sui miracoli di gesù problemi sulla storicità dei miracoli per esempio sapendo bene che c'è un elemento un po di difficoltà preliminare essendo il miracolo al di sopra o al di sotto se si vuole delle leggi fisiche della stessa percezione sperimentale dall'altra parte possiamo al massimo vedere l'inizio e la fine e non ciò che avviene nell'interno nell'intervallo che è il nodo che è un elemento decisivo ci sono anche dei libri che sono molto preziosi utili per poter fare questo itinerario ne cito uno tra i molti uno che è di una gesuita che è stato tra l'altro anche mio professore quando ero giovane giovane iniziavo la teologia alla università gregoriana Renella Tourelle i miracoli di gesù e teologia del miracolo pubblicato dall'editrice cittadella un testo che affronta appunto in maniera abbastanza sistematica dal punto di vista esegetico dal punto di vista teologico il problema del miracolo un problema che affascina sempre d'altra parte noi questa sera ci fermiamo però su un tipo di miracolo particolare quello che suscita ancora più imbarazzo che naturalmente deve essere anche opportunamente studiato noi non vogliamo leggere i vangeli in maniera letteralista in maniera la testimone di geova o alla maniera fanatica quelli che dicono i vangeli sono così suonano così e si prendono così i vangeli abbiamo detto sono in un linguaggio preciso circoscritto riferito ad un mondo concreto è riferito ad un'esperienza concreta ad un orizzonte concreto ebbene noi scegliamo appunto tre esempi di miracoli di guarigioni di indemoniati per mostrare come questi tre esempi esprimono tre volti diversi del demoniaco tre volti diversi del male primo questo primo è sicuramente quello più esplicitamente che coinvolge la figura di un demonio una figura tra virgolette persona una figura che noi vediamo quasi interloquire col cristo stesso vediamo prima di tutto il racconto nel capitolo primo al versetti 21 28 il testo parallelo c'è anche in luca e solo in luca andarono a caparnao è entrato proprio di sabato nella sinagoga gesù si mise ad insegnare ed erano stupiti del suo insegnamento perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scrivi allora un uomo che era nella sinagoga posseduto da uno spirito immondo si mise a gridare che c'entri con noi gesù nazareno sei venuto a rovinarci io so chi tu sei il santo di dio e gesù lo sgridò taci esci da quell'uomo e lo spirito immondo straziandole gridando forte uscì da lui tutti furono presi da timore tanto che si chiedevano a vicenda che è mai questo una dottrina nuova insegnata con autorità comanda persino agli spiriti immondi e gli obbediscono alla fine la sua fama si diffuse dappertutto nei dintorni della galilea dunque io vorrei sarebbe se fossimo in poche si potesse interloquire direttamente vorrei chiedere a voi a una lettura attenta non alla lettura immediata il tour immediata è questo contrasto con l'essere misterioso che vedete non è concepito come una malattia o qualcosa è qualcosa proprio di autonomo nei cui confronti l'indemoniato non viene quasi considerato dal cristo e gli interloquisce con un altro attore vorrei dirvi qual è l'accento qual è l'elemento fondamentale spontaneamente io credo che voi restereste conquistati da questo elemento fondamentale siete stati conquistati l'elemento centrale è lì ma se noi guardiamo con più finezza c'è un altro elemento che è più importante per marco tant'è vero che ce lo ripete ben tre volte nel versetto 21 nel versetto 23 tutto da 21 al 23 si può dire nel versetto 27 è il tema dell'insegnamento di gesù la parola di gesù come vedete ciò che impressiona di più è la forza della parola del cristo e io vi prego questa cosa di sottolinearla mille volte perché correggerebbe una certa tendenza che purtroppo è diffusa anche ai nostri giorni è ritornata in auge ai nostri giorni di mettere il diavolo al centro il centro non è il diavolo lo ripeteremo ancora il diavolo è un elemento marginale al centro c'è il cristo noi non crediamo come asserto fondamentale prima di tutto e soprattutto nel diavolo noi crediamo in Cristo liberatore dal male e allora vedete che qui l'accento è tutto puntato sull'evangelo l'evangelo è al centro poi successivamente c'è un altro elemento altrettanto importante ed è la professione di fede che il demonio fa è quella dichiarazione il santo di dio nel linguaggio biblico il santo di dio è per eccellenza il mistero e la replica di gesù che è nell'interno tipica questa replica del vangelo di marco taci sull'epifania un'epifania satanica ma vera la professione di fede è l'elemento centrale anche il male riconosce è conquistato anzi diciamo non conquistato ma è schiacciato dalla parola dell'evangelo su quella epifania demoniaca se volete ma pur sempre epifania di cristo si stende il velo del mistero il velo del segreto che gesù vuole tenere come ben sappiamo e alla fine questo essere per ora lo lasciamo sospeso essere misterioso che viene chiamato vedete nel vangelo spirito in mondo viene chiamato demonio nel vangelo si usano queste due espressioni vangeli marco dodici volte nel vangelo di marco c'è la parola spirito in mondo l'espressione spirito in mondo e dodici volte la parola demonio questo essere misterioso che però lasciamo sospeso così che non è riconducibile all'indemoniato in quanto tale che anzi appartiene alla conoscenza del mistero cosa che gli uomini non hanno ancora di gesù cosa che non è stata ancora rivelata da gesù ecco questo essere misterioso su questo essere misterioso scende l'azione della parola di dio e la finale quella gridando forte straziandole gridando forte uscì da lui quel gridare forte e il grido di morte del demonio di questo demone che possedeva quest'uomo questo è il primo esempio un esempio dal quale vedete che non possiamo ridurre il demonio a qualcosa di generico a qualcosa di impalpabile a qualcosa che è molto simile al male c'è un confronto diretto con una realtà precisa che trascende la stessa persona umana ma non è solo questo l'espressione demonio quando ritorno ricorre nei vangeli ecco perché scelgo un secondo esempio che forse vi creerà un po un imbarazzo per l'interpretazione che io do ma è d'altra parte anche l'interpretazione esegetica abbastanza comune l'episodio lo troviamo nel capitolo quinto il racconto è molto lungo nei versetti 1 20 prima di tutto vorrei dirvi un piccolo particolare in particolare sul vedete il titolo l'indemoniato di gerasa ieras è una stupenda città che ancora oggi c'è ha lasciato le sue reliquie stupende ma nel profondo nell'interno della giordania attuale della trasgiordania non è assolutamente affacciata sul lago di tiberiade come si suppone qui e gerasa ancora oggi appare con lo splendore del suo foro a corolla è un foro romano a corolla un disegno meraviglioso incantevole di colonne che si aprono e fanno come un grande fiore e poi continuano quelli che ci sono stati ricorderanno oltre a tutti i monumenti di questa città greco romana meravigliosa anche probabilmente prospera qualche d'uno dice la regione si estendeva fino all'area orientale alla costa orientale del lago di tiberiade è per questo che si parla dell'indemoniato di gerasa della regione di gerasa cosa che può essere neanche probabile ma l'elemento interessante secondo me è proprio la sottolineatura della gerasa una città che era pagana apparteneva al sistema famoso delle dieci città la decapoli greco romana florida florido sistema urbano di città che erano collegate tra di loro e che costituivano un riferimento anche costituiscono un certo riferimento del vangelo di gesù ma che non erano mai frequentati dagli ebrei osservanti perché come potete immaginare erano impure erano città pagane ma cominciamo matteo parla invece di un altro centro per esempio parla di gadara e luca parla dei gergeseni un altro centro ancora nomi che un po come vedete impallidiscono preoccupazione dei vangeli non è di offrirci una mappa della palestina precisa adesso l'archeologia è incline a ritenere che questa gerasa sia nell'interno di un nome arabo che è conservato ancora in una località che si trova in una valle che precipita nella nel lago di tiberia dei wadi e samar cioè la valle del pesce e questo centro si chiama cursi che sarebbe la deformazione della parola gerasa cursi ci offre ancora oggi uno stupendo monastero tra l'altro bizantino vuol dire che già i bizantini avevano costruito un grande pavimento a mosaico con delle cisterne vivevano probabilmente molti monaci sono stati trovati anche molti scheletri di monaci sepolti nell'interno della chiesa ecco per ora ricordiamo questo aspetto è una area pagana ma poi vediamo nel racconto apparire tutta una serie di elementi che vanno sempre in questa direzione tutto quello che per un ebreo poteva essere considerato male e impuro ma proviamo velocemente a percorrere il testo intanto giunsero all'altra riva del mare nella regione dei geraseni come scese dalla barca provate intanto voi nella lettura a segnare idealmente nella mente tutti gli elementi negativi per quanto conoscete della cultura biblica o ebraica in genere gli elementi impuri già abbiamo visto gerasa come scese dalla barca gli venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo egli aveva la sua dimora nei sepolcri e nessuno più riusciva a tenerlo legato neanche con catene perché più volte era stato legato con ceppi e catene ma aveva sempre spezzato le catene infranto i ceppi e nessuno più riusciva a domarlo continuamente notte giorno tra i sepolcri e sui monti gridava e si percuoteva con pietre visto gesù da lontano accorse gli si gettò ai piedi urlando a gran voce disse che hai tu in comune con me gesù figlio del dio altissimo ti scongiuro in nome di dio non tormentarmi gli diceva infatti esci spirito immondo da quest'uomo e gli domandò come ti chiami mi chiamo legione gli rispose perché siamo in molti e prese a scongiurarlo con insistenza perché non lo cacciasse fuori da quella regione ora c'era là sul monte un numeroso branco di porci al pascolo e gli spiriti lo scongiurarono mandaci da quei porci perché entriamo in essi glielo permise gli spiriti immondi uscirono ed entrarono nei porci e il branco si precipitò nel burrone dal burrone nel mare erano circa duemila e affogarono l'uno dopo l'altro nel mare i mandriani allora fuggirono portarono la notizia in città nella campagna e la gente si mosse a vedere che cosa fosse accaduto e poi c'è la scena finale del di questo indemoniato pacificato e liberato dunque quali sono gli elementi simbolici sottolineati abbiamo per tre volte avete sentito la presenza dei sepolchi nel versetto 2 versetto 3 versetto 6 abbiamo il luogo impuro per eccellenza il sepolcro il luogo della morte abbiamo i porci i porci sono per eccellenza il simbolo dell'impurità quasi personificata abbiamo il mare il mare che il lago nella fatta specie le acque tumultuose sono il simbolo del male del caos nell'apocalisse si dice a gerusalemme celeste non avrà più il mare perché non ci sarà più il male abbiamo ancora l'area della decapoli i popoli pagani e abbiamo anche il nome curioso con cui si chiama questo indemoniato spirit o questo demonio questi spiriti mondi legione è un'espressione tipica è un nome tipico è il termine tipico romano per indicare proprio le armate romane la legione romana la decima fretta in sera a distanza in palestina e quindi l'impero romano pensiamo che cos'è l'impero romano all'interno dell'apocalisse per esempio questo condensato allora a questo punto esaminando attentamente andando un po anche oltre trovando per esempio anche la descrizione della pazzia una descrizione che è veramente espressa qui coi caratteri della pazzia non tanto dell'indemoniato nel primo racconto non si stavano pochissimi tratti qui invece c'è proprio una descrizione che tra l'altro corrisponde alla descrizione che il talmud dà del pazzo per cui c'è anche nella narrazione di marco l'idea secondo l'opinione giudaica di descrivere un pazzo un folle nel talmud si dice dorme di notte per notta tra le tombe si strappa alle vesti e hai la tentazione di distruggere e di distruggersi allora io vorrei tra parentesi dirvi che potrei spingere anche oltre l'analisi alla scoperta di questi segni del male questi simboli per esempio un particolare ve lo dico solo ma richiederebbe un lungo discorso i monti nel linguaggio della bibbia antico testamento i monti sono per eccellenza sempre legati a qualcosa di estremamente ambiguo c'è il monte sion che è il monte della salvezza ma tutti gli altri monti sono sempre pericolosi sono i monti dei culti pagani dei culti cananei dove c'erano questi santuari cananei posti su queste alture quando arriva un re giusto nella storia dell'antico israele elimina le alture elimina i monti non i monti dei culti cananei a questo punto noi possiamo fare una conclusione il racconto è il racconto della guarigione di un pazzo prima di tutto perché il ritratto è quello di un pazzo ma in questo si è intessuto anche un condensato si è tipizzato anche tutto l'effetto demoniaco che è presente nella storia e questo effetto demoniaco è soprattutto con un'unica parola se volete l'idolatria e voi dite ma perché e lasciamo stare c'è roma va bene impero c'è il simbolo del nulla del male il maiale il porci il mara perché proprio l'idolatria sentite il capitolo 65 di isaia io vi leggo solo dei versetti 1 7 vi leggo solo i versetti le frasi che ci interessano si sta descrivendo l'idolatra per eccellenza abitano nei sepolcri gli idolatri passano la notte in nascondigli mangiano carne suina e hanno cibi immondi nei piatti bruciano incenso sui monti e sui colli mi insultano avete nell'interno di questa rappresentazione gli elementi principali simbolici che marco ha usato per descrivere quella particolare quel particolare contesto quella particolare situazione e allora a questo punto potremmo dire ecco un secondo caso nel primo il demonio appariva in una sua realtà in una sua identità ora appare in un'altra identità appare in un'altra entità che non è quella del demonio personificato come immaginiamo noi o personalizzato diremo anche qualcosa su questo è nell'interno delle forze maligne della storia è nell'interno dell'idolatria è nell'interno di questo grumo di male che l'uomo costruisce il racconto della guarigione di un pazzo diventa invece viene riletto dalla narrazione di marco come una vittoria contro questo grumo contro questo altro volto del demonio ha altri volti anche se non è un volto personalizzato come il precedente il demonio è quindi l'idolo in senso lato potremmo dire sulla base di questa pagina senza escludere la precedente terzo ma potremmo fare un passo in avanti come sempre vedete che la finale è la proclamazione del cristo la vittoria del cristo è sempre con la professione di fede gesù figlio del dio altissimo grida e il trionfo di cristo sul male sull'idolatria è sceneggiato nella nel quadro finale terzo episodio nel capitolo nono ai versetti 14 29 siamo in presenza della famosa descrizione dell'epilettico indemoniato ai piedi del tabor qui probabilmente abbiamo un altro modo per leggere il mistero del male un modo che è sempre più lontano dal primo come vedete il concetto di demonio è un concetto analogico o si può applicare in tante forme e questa forma è forse l'ultima della più blanda gli studiosi sono convinti che questo brano è costruito sulla fusione di due racconti una guarigione guarigione di un epilettico e alla quale è stato fuso insieme una narrazione di indemoniato che era indipendente un indemoniato come la prima che ho citato precedentemente e alla fine il risultato è che sembra un racconto di un indemoniato ancora ma in realtà l'accento è sull'epilessia è la fusione finale che dà questa impressione ed è naturalmente lo scopo della lezione di marco farci vedere l'altro volto del mistero del male di satana che sia un epiletto io adesso non vorrei leggervi tutto il racconto perché non abbiamo molto tempo questa sera leggerò solo alcune parti leggetelo tutto con calma voi dal 9 capitolo 9 versetto 14 fino al 29 io vorrò farvi invece vedere una piccola piccolo segreto che è poco commesso in luce di solito dagli studiosi ma che per me è la chiave di volta per concludere anche quasi tutto un discorso sul demoniaco l'accento prima di tutto sul fatto che si tratta di una epilessia e dopo la trasfigurazione stanno scendendo ai piedi del monte ricordate il raffaello la trasfigurazione raffaello con la scena i piedi del monte che sia un epilettico lo si vede abbastanza bene guardate per esempio nel versetto 18 leggo solo i verbi proprio tipici lo afferra lo getta al suolo schiuma di grigna i denti si irrigidisce poi si ricordano anche le convulsioni poi nel versetto 20 caduto a terra si rotolava spumando versetto 21 si butta nel fuoco e nell'acqua sono le tipiche rappresentazioni dell'epilessia in tutta la sua sintomatologia naturalmente il mondo dell'oriente e si vede già nell'interno di questo racconto tenta subito di far fluire questa malattia fisica nel regno del demoniaco ed ecco allora la fusione con questo racconto di indemoniato che dà alla fine l'impressione che siamo in presenza di una guarigione di un indemoniato di uno sesso in realtà dobbiamo dire che qui abbiamo l'ultimo volto esiste un volto misterioso tra virgolette un po' demoniaco nell'interno anche del male male fisico però nell'interno della sofferenza nell'interno del limite l'essere noi limitati l'essere appunto attraversati dalla sofferenza non è di per sé in sé una realtà ontologicamente diremmo con una parola difficile cioè in sé strutturalmente una realtà maligna però c'è qualcosa che appartiene anche nel nostro limite nel nostro essere creatura che appartiene un po' all'imperfezione all'incompiutezza dell'uomo e laddove c'è incompiutezza non c'è dio e allora in questo senso possiamo dire che è un tentativo di interpretare la vittoria di cristo anche sul male fisico descritto come se fosse la sofferenza fisica qualcosa di demoniaco ma guardate che qui il demoniaco è molto blando perché noi non dobbiamo mai dimenticare che cristo ha rifiutato di dire che la malattia è frutto del demonio ricordate non ha peccato del peccato non ha peccato né lui nei suoi genitori dice del cieco nato e giobbe si rifiuta continuamente di unire male etico male morale col male fisico però qualcosa si annida in questa imperfezione della creatura che è frutto anche per certi aspetti del peccato ma come vi dicevo gesù vincitore della malattia oscura è la tesi fondamentale di queste malattie malattie così terribili come l'epilessia ma anche marco dice qualcosa di più è vincitore del male satanico in assoluto concependo qui il concetto di satanico di satana e di demone nella forma più larga possibile ma vi dicevo c'è un piccolo segreto che ci fa capire come questo racconto abbia un'ultima finalità un'altra finalità e voglia farci vedere che non è la storia di un epilettico sia pure guarito ma è qualcosa di più non è la storia neppure di un indemoniato liberato se vogliamo infatti c'è una bellissima suggestiva finale quella dei versetti 26 27 che in greco e qui purtroppo devo ricorrere ancora il greco ma lo farò cercando di rimandare a cose comprensibili a tutti il greco ci fa comprendere che noi siamo abbiamo davanti agli occhi nella guarigione qualcosa di assolutamente superiore alla guarigione stessa versetti 26 27 il fanciullo alla fine diventò come morto necros sicché molti dicevano è morto a pethanen in greco ma gesù presolo per mano lo sollevò in greco egeiren ed egli si alzò in piedi aneste in greco voi dite beh questi verbi cosa vogliono dire beh per uno che conosce il greco del nuovo testamento e conosce il credo del nuovo testamento quei piccoli schemi quelle piccole schegge delle professioni di fede che sono in paolo per esempio si accorge che questi verbi usati morto morire necros apothnesco apethanen egeiren e anistemi aneste sono i verbi tecnici usati per descrivere la morte e la ressurrezione di cristo tra l'altro si sceglie proprio quel verbo egeiren che vuol dire risvegliarsi che è tipico proprio di quella e si usa anche l'altro verbo anistemi si mettono insieme ne bastava uno si mettono insieme e si costruiscono in una riga tutte le stesse si costruiscono tutte le stesse parole del credo per cui quasi in sovrimpressione quasi in filigrana uno possa vedere nell'interno di questo malato guarito possa vedere il cristo risorto e a questo punto allora dato che abbiamo l'annuncio cristiano l'annuncio fondamentale di questo racconto è l'annuncio di una ressurrezione dalla morte dal limite dell'uomo e il limite la morte dell'uomo è qualcosa tra virgolette che può essere definito demoniaco nel senso più lato possibile e a questo punto facciamo una lunga conclusione questa conclusione è un po il discorso sistematico sul diavolo io già vi ho mostrato in questi tre testi come non possiamo automaticamente dire ma c'è la parola indemoniato e vuol dire che si tratta di un demonio si dimostra facilmente da queste pagine perché abbiamo visto che lo sforzo della bibbia è quello di farci vedere lo vedremo poi per l'antico testamento ancora di più che il concetto del diabolico del demonico è un concetto molto sfrangiato suppone una realtà personale misteriosa però suppone al tempo stesso l'idolatria il male della storia il male dell'uomo delle scelte dell'uomo e suppone anche dall'altra parte persino un filo di demoniaco c'è nell'interno della sofferenza ecco e allora parliamo un po del diavolo sciacia l'abbiamo citato anche sabato scorso ha un'espressione molto divertente a questo riguardo il diavolo se n'era andato scrive nel romanzo che ho citato l'ultima volta il cavaliere la morte se n'era andato se n'è andato nel nostro mondo perché perché si era accorto che gli uomini sapevano fare molto meglio di lui è la cosa che d'altra parte aveva detto faust nel faust goethe goethe in un verso ho cercato di andarlo a trovare ma è un'impresa trovarlo per avere la citazione esatta lo ricordo solo a memoria sapete che d'altra parte faust è fatto di 12.111 versi mi pare quindi è un'impresa mi pare che però fosse così il verso hanno cacciato il gran maligno con la maiuscola e i malvagi più piccoli ci sono tutti restati da un lato vedete c'è un po questa idea che dobbiamo un po smitizzare questo demoniaco dall'altra parte però abbiamo per esempio una dichiarazione come quella della prima lettera di Pietro al capitolo quinto versetti 8 9 che esplicitamente fa questa dichiarazione il vostro nemico il diavolo come leone ruggente va in giro cercando chi divorare resistete gli saldi nella fede sapendo che i vostri fratelli sparsi per il mondo subiscono le stesse sofferenze di voi ecco io direi dobbiamo un po sempre stare abbiamo sempre un po questa oscillazione tra un eccesso un diabolico che diventa alla fine veramente la tentazione autentica del demoniaco esasperare la figura del diavolo e dall'altra parte quella che può essere secondo il famoso detto l'altra tentazione del demoniaco la dichiarazione dell'inconsistenza della non esistenza del diabolico di questa ombra di dio nell'interno della storia e certe volte anche i libri ci sono dei libri per esempio di questi ultimi tempi non sono un libro che proprio sull'eccesso opposto a me è fastidioso di un tale balducci il diavolo esiste lo si può riconoscere ha avuto un successo colossale dal punto di vista teologico a far a brividire dal punto di vista esegetico soprattutto è quell'eccesso di corposità di materialità che alla fine diventa una banalizzazione di un concetto teologico e secondo me è drammatico e serio è un po la riduzione sapete dei mezzi di comunicazione di massa questo tale questo scrittore prete si è lasciato forse un po tentare da questo tema e ci si abbandona e molti forse anche di voi lo conoscono questo libro che io però non condivido nella sostanza d'altronde il tragico è da rappresentare con sobrietà abbiamo in questi giorni davanti ai nostri occhi quella bruttura che sono i promessi sposi televisivi un testo un esempio per tutti un don abbondio che solo i superficiali credono che sia un personaggio ironico e sarcastico solo un superficiale come alberto sordi sia pure bravo attore per altre ragioni crede che si credono che sia un personaggio ironico sarcastico evidentemente un personaggio eminentemente tragico ecco solo così dopo diventa si si banalizza e dall'altra parte c'è però un altro libro che voglio ricordare un libro di un grande esegeta anche teologo hug il quale ha intitolato quest'opera poi ho scritto un'altra opera un po più moderata questo rivale intitolato la liquidazione del diavolo in tedesco è senza il punto di domanda l'editore italiano ha messo un punto di domanda per sicurezza essendo forse più vicino a roma però è l'eccesso opposto è l'eccesso opposto anche qui non è perché esistono dei dati biblici che non si possono eliminare eliminare e lidere dal dato della fede dobbiamo dire che attorno nella figura del diabolico del demoniaco si intrecciano tantissime realtà che non sono teologiche e dobbiamo sceverare queste realtà sono piacevolissime da studiare se si vuole si intreccia la magia si intreccia la superstizione si intreccia la morbosità si intrecciano certe sette certe spiritualità anche un po troppo devozionali si intrecciano anche cristiane cattoliche si intreccia l'etnologia si intreccia l'antropologia culturale lo sciamanismo eccetera si intreccia la psicologia e alla fine anche la teologia ma prima bisogna liberarci un po da tutte queste cose pensiamo insomma al fascino che crea sempre questo l'esorcista che mi pare uscito nel 73 che cosa è stato quel film e prima nel 68 e rosemary's baby di polanski che poi è stato tragicamente vissuto da questo regista con la l'assassinio della moglie sharon tate nella da quella setta satanica il convegno di torino recente che era una cosa più seria di quanto avevano detto i giornali c'è però vedete un intreccio da dipanare ebbene noi dobbiamo sempre stare attenti a mantenere questo equilibrio interpretativo senza lasciarci tentare da questi due estremi che sono estremi facili semplificatori pensiamo non so nel all'interno del periodo illuministico quell'ottimismo radicale cui si diceva che il diavolo è semplicemente una fantasticheria di uomini primitivi oppure dall'altra parte quello l'eccesso in un altro senso roman del romanticismo il satana che è il simbolo dell'eroe l'eroe che osa sfidare dio l'eroe audace che cammina verso la libertà che cammina verso la bellezza contro il dio che ti tarpa le ali pensiamo nice e pensiamo il nostro più modesto carducci col suo inno assata bene se vogliamo risolvere questa questione dobbiamo ragionare in maniera un po più raffinata col distinguere coloro che vogliono capire devono sempre distinguere perché il comprendere è appunto il solo dio intuisce tutto in un istante noi uomini percorriamo analiticamente la verità per arrivare poi magari all'intuizione rarissimamente abbiamo l'intuizione le hanno i geni poeti santi si dice premessa per questa breve breve brevissimo discorso sul mistero del male mistero del demonio o se volete più genericamente questo discorso è il discorso del mistero sul bene e il male questo groviglio oscuro sempre dobbiamo primo queste premesse rifiutare la centralità del diavolo liberiamoci qualche uno ancora questo incubo quest'ansia questa formazione religiosa magari la cancelli non è cristiana è un pagano al centro c'è cristo al centro c'è dio non dobbiamo avere un satanismo teologico non dobbiamo avere neppure una visione manichea dualistica per la quale c'è un dio e un antidio il demonio il diavolo è inferiore a dio in qualsiasi non sono due principi che regolano e dominano la storia il principio del bene il principio del male la tradizione cristiana dice che è una creatura quindi appartiene sempre in una forma che a noi sfugge ma appartiene sempre al limite dell'uomo alla realtà umana secondo dobbiamo rifiutare il diavolo come alibi per cancellare la libertà la responsabilità umana come diceva quel famoso testo di dario foe insomma la colpa è sempre del diavolo dobbiamo prima di tutto puntare l'indice contro noi stessi non dobbiamo consolarci dicendo e altri ci trascinano altri ci spezzano ci infrangono c'è prima di tutto è solenne l'uomo con la sua libertà con questo suo rischio affascinante e anche terribile tragico terzo dobbiamo rifiutare l'idea che la redenzione che ha operato cristo sia solo per guarire le malefatte del diavolo o le malefatte dell'uomo e qui san paolo è radicale su questo e ha perfettamente ragione la redenzione è molto di più cristo non è venuto per guarirci da alcune ferite da alcuni limiti e farci un uomo un po più accettabile una persona più accettabile cristo è venuto per darci la vita divina e quel famoso pollò mallon della lettera greco della lettera ai romani molto di più laddove abbondato il peccato è sovrabbondato molto di più dovremmo tradurre il verbo greco che c'è in quel passo dei romani la grazia di cristo e da ultimo dobbiamo rifiutare la tentazione di confondere il male morale col male fisico tentazione di vedere del demoniaco del male morale nell'interno della malattia ma soprattutto i primi tre principi sono importanti e a questo punto allora dobbiamo dire la bibbia che cosa ci dice a questo riguardo tenendo presente queste linee di lettura che sono fondamentali ma la bibbia ci fa vedere abbastanza chiaramente alcuni dati che sono un po nell'interno anche di quel discorso che ho fatto questa sera e che sono stati un po ribaditi dalla tradizione con accenti diversi la tradizione d'altra parte sapete non è sempre da prendere nella sua dichiarazione immediata e da prendere nel suo sviluppo globale per cui come la bibbia non la prende in una riga sola per dire tutta la verità in quella riga così non prende la tradizione dicendo in quel documento di quel papa o di quel o in quei testi del medioevo c'è tutta la verità della chiesa quando per esempio il demoniaco proliferava nella bibbia da un lato c'è anche una realtà misteriosa che ci permette di comprendere anche tante cose c'è un dio tentatore anche c'è quel passo curiosissimo della secondo libro di samuele capitolo 24 quando davide viene tentato da dio a fare il censimento c'è quindi qualcosa nella tentazione che non siamo autorizzati a considerare subito principio maligno la tentazione è in sé qualcosa di nobilissimo se è vero che è anche colpisce il figlio altro non è probabilmente che attivare il gioco della libertà e quindi è dio stesso che ci ha dato la libertà e l'attiva in un certo senso ma d'altra parte vediamo che nel libro delle cronache al passo parallelo quando si racconta la stessa storia di davide si dice nel libro delle cronache che satana tentò davide perché facesse il censimento come vedete il concetto è quindi abbastanza fluido ancora nel libro di job satana è un angelo del consiglio della corona di dio e anzi è il possiamo dire il pubblico ministero quello che deve difendere i diritti di dio ed è per questo che provoca l'uomo per riuscire a vedere se l'uomo è fedele o no vedete che c'è un concetto persino positivo quello che ho detto prima è questo del tra virgolette diavolo tentatore ma più avanti cominciamo ad avere lo spettro vedete passa dalla luce all'oscurità passa il negativo ed abbiamo per esempio nella letteratura apocalittica nel libro dell'apocalisse il grande la grande bestia il drago il serpente il diavolo si dice ma che cos'è in ultima analisi negli apocalittici ma noi sappiamo che è soprattutto il potere politico il potere che perseguita che perseguitava la chiesa perseguitava israele prima allora vedete che c'è un altro concetto del demonio che abbiamo un po trovato il demonio della storia che è la libertà degli uomini degenerata che diventa peccato del mondo è un concetto anche questo del demonio che non è necessariamente la persona una persona diavolo è una personificazione del male ma e qui andiamo sempre nello spettro sul negativo abbiamo anche delle pagine come quella che abbiamo visto la prima e altre della bibbia in cui il diavolo è una misteriosa figura questa ombra di dio che è nell'interno dell'intreccio nella trama misteriosa della storia ancora una volta la bibbia ci offre perciò una gamma molteplice di significati non dobbiamo automaticamente dire subito tutto è nel demoniaco diavolo c'è anche un demoniaco che nasce da noi c'è anche un demoniaco che è nell'interno della storia e c'è un tra virgolette diabolico che è giusto che è necessario ed è questa specie di tentazione che per esempio a abramo ha e che alla fine tentare di uccidere il figlio che alla fine si rivela invece come il grande gesto della fede una realtà complessa in cui bisogna distinguere ma noi fissiamo l'attenzione sull'ultimo aspetto perché il nostro scopo è arrivare lì a quel diabolico diavolo singolo persona almeno si dice persona esso è stato ribadito nell'interno anche delle dichiarazioni recenti non solo per l'antichissima tradizione che ha sempre parlato di questo sulla scia di quei passi biblici è stato ribadito poniamo negli ultimi tempi il credo del popolo di dio di paolo sesto nel 1968 l'ha riaffermato in un aspetto particolare non è l'asserto fondamentale ripeto nel 1975 la congregazione della dottrina della fede pubblicato un documento sulla fede cristiana e la demonologia l'insegnamento dei papi spesso dalla tradizione della chiesa ripetutamente usa questo riferimento a quel l'ultimo demoniaco l'altro è sempre detto è sempre dichiarato l'altro demoniaco che è in noi che è nella storia e così via e allora a questo punto proprio attorno a questa figura diciamo quello che possiamo dire che non è molto quello che possiamo dire è vero nella bibbia nella tradizione molte volte parlare del demonio del diavolo di satana è un'operazione di tipizzazione è personificare il male il male del mondo come ho detto e dobbiamo riconoscerlo questo è un dato di fatto ma dobbiamo riconoscere come dato di fatto altrettanto vero nell'interno dell'insegnamento tradizionale insegnamento biblico stesso che esiste qualcosa che non è una presenza direi che non è solubile nel male del mondo nel male della mia libertà quando gesù per esempio abbiamo visto in quel primo racconto apostrofa direttamente decisamente come realtà operante quasi come persona abbiamo detto che dimentica il malato parla con questa realtà parla veramente con una realtà che è in contrapposizione a lui che è in contrasto anche se è in un contrasto molto misero molto se volete inferiore non è quindi un concetto solo vago è anche qualcosa che ruota attorno ad un mistero e allora qualche uno domanderà questo mistero è una persona il diavolo è veramente un essere io ho usato l'espressione finora presenza personificazione abbiamo detto il male del mondo personificato ma questa è una figura letteraria io ho usato l'espressione presenza altre volte ombra di dio e io qui a questo proposito direi che forse usare l'espressione persona diavolo essere personale non sia una definizione teologicamente parlando molto accettabile e questo lo sottolinea soprattutto in un suo saggio di alcuni anni fa il cardinale Ratzinger per cui la sicurezza è indiscutibile il quale sottolinea però secondo me una cosa molto acuta molto seria e gli dice il diavolo è una persona al modo della non persona perché il concetto di persona è squisitamente positivo è la pienezza della realizzazione dell'essere dell'uomo tant'è vero che la teologia che cosa ha fatto per tutta la sua storia ha cercato di definire dio come persona le tre persone usando questa categoria della cultura greca per indicare la pienezza dell'essere la pienezza della realizzazione la pienezza per noi dell'umanità in questo senso dobbiamo dire che satana è piuttosto e non sappiamo quindi che cosa è realmente è la menzogna della persona è l'antipersona per eccellenza è la disgregazione è la deformazione Lutero diceva è la simia dei la scimmiottatura di dio diremmo è anche la scimmiottatura dell'uomo della persona ed è questo il grande inganno è questa grande minaccia perciò personale se volete ma intendendo bene il concetto di persona presenza direi reale che interferisce nel rapporto uomo dio che interferisce nella nostra libertà che fa sprigionare se volete il dramma della libertà che fa sprigionare il limite negativo dell'umanità e della storia ormai siamo arrivati alla fine il discorso è stato solo abbozzato meriterebbe di essere approfondito ma ho detto dopo tutto è più molto più importante parlare di gesù cristo e ci sono di solito quelli che sono molto devoti tra virgolette del diavolo che sono molto preoccupati del diavolo sono poco devoti di gesù cristo sanno molto di più del diavolo di cui ci sa pochissimo all'interno della bibbia come abbiamo visto e sanno molto poco di cristo ecco allora il mio appello ricordiamo che il peccato che il diavolo non è separabile dalla la libertà dell'uomo prima di tutto che è l'elemento centrale e non è separabile soprattutto da quell'elemento fondamentale che è il cristo salvatore e allora finirò con due testimonianze che sono anche due aperture di orizzonte ascoltate sono molto belle soprattutto la seconda la prima è quella di pavel evdokimov questo teologo russo laico molto famoso del nostro secolo ed è un po' la scoperta del demoniaco del diabolico che c'è in noi anche nell'interno di noi quella presenza che forse è all'esterno che ci è entrata un demonio lo prese ricordate il diavolo lo prese giù è qualcosa che è prodotto anche da noi o l'uomo e gli scrive è angelo di luce icona di dio sua somiglianza oppure porta l'immagine della bestia e si fa scimmia scimmia nel senso proprio del demoniaco di bestia bestia dell'apocalisse e noi il nostro essere sospesi tra la possibilità di essere di avere nell'interno dei nostri lineamenti il volto di dio e di avere l'interno dei nostri lineamenti anche il volto del satanico ma finiamo con una bella pagina una pagina serena questa ed è proprio lo scopo di tutto il discorso che ho fatto anch'io questa sera del far capire che l'elemento più importante è la speranza l'elemento più importante è il perdono l'elemento più importante è la redenzione l'elemento più importante che c'è il cristo che è molto più forte del maligno del maligno che è in noi al di fuori di noi e questo ce lo rappresentiamo con la testimonianza di un grande santo il nostro santo e proprio alle soglie della sua celebrazione almeno per noi che parliamo questa sera cioè sant'ambrogio nell'interno di una sua opera sulla sua meditazione sulla creazione sui sei giorni della creazione l'esamerone è il capitolo sesto è una conclusione anche per noi questa sera è ormai tempo di concludere il nostro sermone perché siamo al termine del sesto giorno e la creazione dell'universo è compiuta nell'uomo che è il vertice di tutti gli esseri viventi e di tutta la creazione ora dobbiamo fare silenzio perché dio si riposa dopo l'opera della creazione si riposa nel cuore segreto dell'uomo si riposa in colui che ha creato dotato di ragione a sua immagine rendo grazie al signore nostro dio che ha fatto un'opera tanto grande nella quale egli può prendere riposo ha creato il cielo ma non leggo che dio si è riposato ha creato la terra ma non leggo nella bibbia che dio si è riposato ha fatto il sole la luna le stelle e ancora non leggo che dio si è riposato ma leggo che ha fatto l'uomo e allora dio si è riposato perché aveva ormai qualcuno al quale perdonare i peccati lettura della bibbia ciclo di conferenze su il vangelo di marco tenuti al centro culturale san fedele di milano nel mese di novembre dicembre san fedele di milano nel mese di migliorare i peccati